Luca Onestini Luca Onestini, l'infortunio stoppa la carriera da calciatore, il regalo del Bologna Luca Onestini, perché ha smesso di giocare a calcio? L'infortunio e il regalo del Bologna. Quello del calcio è un sogno infranto per Luca Onestini. L'ex tronista di Uomini e Donni aveva infatti intrapreso la carriera del calciatore ma a soli 18 anni ha dovuto rinunciare a tirare calci al pallone. Il motivo? Un grave infortunio che ha compromesso il suo percorso sportivo nelle giovanili del Bologna, dove ha iniziato a giocare ad appena 11 anni. Fino alla maggior età tutto è andato a meraviglia per l'ex corteggiatore di Clarissa Marchese, che per anni ha diviso la sua esistenza tra i libri di scuola e il campetto verde. Un problema dell'Anca ha però cambiato il futuro di Onestini che ha dovuto così rinunciare al desiderio di diventare un attaccante professionista. Col tempo l'ex fidanzato di Soleil ha accettato questo grande cambiamento ma a ricevere al grande fratello Vip la maglia del Bologna, la sua squadra del cuore, è stato davvero un grande regalo. Il problema dell'Anca ha rovinato la carriera da calciatore. Ho giocato nel Bologna dagli 11 ai 18 anni e ho fatto tutto il settore giovanile, dedicando quegli anni della mia vita al calcio e ai colori rosso-blu. Non sono mancati i sacrifici, perché provavo d'andare bene anche a scuola, prima le medie e poi il liceo scientifico. Portare avanti entrambe le cose non è stato sempre facile, in quegli anni mi dedicavo solamente al calcio e alla scuola, ha raccontato Luca al sito 051. . Poi sono arrivato in primavera e purtroppo ho avuto un problema importante all'Anca che mi ha bloccato, così il sogno si è infranto. Ho avuto vari guai fisici, compresi quelli al menisco e ad un timpano. Il più serio però è stato quello all'Anca, mi sono dovuto operare e sono rimasto fuori più di un anno. Quello è stato il motivo per cui il rapporto con il Bologna si è interrotto, ha puntualizzato Onestini. La nuova vita di Luca dopo l'addio al mondo del pallone. Archiviato il mondo del calcio, Luca Onestini ha ripiegato sull'università, iscrivendosi alla facoltà di odontoiatria, e sullo spettacolo. Prima ha vinto la fascia di Mister Italia, poi è stato tentatore a Temptation Island. Successivamente è stato corteggiatore e tronista a Uomini e Donne e infine concorrente al Grande Fratello Vip.